Sono le 10.51, 50 secondi, quasi 10.52. Buongiorno in diretta sul 15 di Esperia TV. Andiamo immediatamente davanti all'ospedale San Giovanni di Dio dove c'è il nostro Massimo Carlozzo perché riteniamo che da qui a qualche secondo, qualche minuto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che pochi minuti fa è atterrato all'aeroporto Sant'Anna visiterà, darà il proprio personale conforto, a nome suo personale certo, ma a nome di tutto il popolo italiano, sono ai superstiti del naufragio di domenica mattina, sabato notte domenica mattina. Alcuni bambini sono ancora ricoverati presso il nosocomio pitagorico ed è il primo step del Presidente della Repubblica. Subito dopo, riteniamo, si sposterà naturalmente a rendere omaggio anche alle 67 salme che purtroppo sono perite in questo drammatico incidente in mare di sabato notte. Io direi di andare da Massimo Carlozzo perché immagino che in questo momento il Presidente della Repubblica sia proprio nello spiazzo innanzi alla cancellata, all'inferriata che dà appunto all'ingresso dell'ospedale. Massimo mi senti, ci sei? Sì, buongiorno Salvatore, buongiorno a quanti ci stanno seguendo, dicevi benissimo, qualche minuto arriverà il Presidente Sergio Mattarella, noi siamo all'interno dell'ospedale, nell'atrio del San Giovanni di Dio e tra qualche minuto vi faremo vedere appunto in diretta qui sul canale 15 quello che succede a Crotone. Ricordiamo che Mattarella domenica scorsa, qualche ora dopo la tragedia appunto di Steccato, fu il primo ad intervenire su questa drammatica vicenda che ha scosso le coscienze di tutto il popolo italiano. Cosa farà Mattarella? Da quello che sappiamo salirà in pediatria al secondo piano, farà visita probabilmente a due bambini, farà una carezza sicuramente, qui sono in tanti che lo stanno aspettando. Ricordo che in ospedale, perché passa dall'ospedale? Perché qui ancora ci sono 15 ricoverati, 15 ricoverati di cui la gran parte sono minori, di sicuro ci sono due minori di 9-11 anni che avranno questa mattina il piacere e l'onore di ricevere la visita del Capo dello Stato. Qua fuori stanno aspettando il Presidente, ovviamente il Commissario dell'Asp, Simona Carbone, il Direttore Sanitario Lucio Cosentino e poi tutte le istituzioni, le istituzioni, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, i sindaci di Cutro, Ceraso e di Crotone, Voce. Ancora un po' di pazienza, arriverà il Presidente. Perdonami, così interloquiamo io e te. In questi giorni in maniera particolare è uscita sulla stampa nazionale e internazionale anche questo forte sentimento dei calabresi in segno di solidarietà. I sindaci, dicevi, ma anche semplici cittadini hanno messo a disposizione addirittura, diciamo, loculi, bare, mi perdonerete questo linguaggio che probabilmente è anche fuori luogo. Però, insomma, ecco, abbiamo raccontato un'altra Calabria e probabilmente qualcuno è rimasto anche profondamente sorpreso proprio da questa voglia dei calabresi di stare accanto agli ultimi della terra. Hai raccolto da questo punto di vista magari sensazioni anche da parte di alcuni colleghi giornalisti, quei quali di fatto da quattro giorni tu, insomma, ti manca soltanto di dormirci insieme. Fortunatamente è uscito fuori questo lato della Calabria solidale, della Calabria dell'accoglienza per la verità. Salvatore, tu lo sai meglio di me, Speria racconta da sempre questa Calabria, diciamo, positiva, non solo la Calabria dei problemi e delle negatività. Sì, davanti il Palamilone, sin dalla serata di domenica, dalla mattinata di lunedì, come abbiamo visto nei nostri notiziari, hanno depositato dei fiori, dei lumini, tanti giocattoli. Addirittura i ragazzi delle scuole, diciamo, di Crotone e non solo, sono venuti a far visita, a rendere omaggio alle, purtroppo, tantissime vittime di questa tragedia, la più immane tragedia per quanto riguarda il numero delle vittime della Calabria. In questo momento stiamo vedendo, vedete, questi sono gli uomini del presidente che stanno portando probabilmente dei giocattoli che il presidente Mattarella intenderà consegnare proprio a questi bambini, che fortunatamente stanno bene. Questa è la cosa più importante, Salvatore. Dicevi dei colleghi, sì, i colleghi, probabilmente quelli che non conoscevano bene la Calabria, stanno scoprendo questo lato, diciamo, dal forte sentimento umanitario di tutti noi calabresi. Noi ci siamo abituati e ben venga a questo messaggio, che è un messaggio, diciamo, positivo. Io abbasso poco poco il volume, siamo sempre in diretta, dovremmo quasi esserci. Dicevi, sì, di questo senso di solidarietà e di umanità. Sicuramente non può che far bene a quanto ogni giorno lavorano e si impegnano per far vedere quello che è il vero volto del 90-95% dei calabresi. Vedevo davanti all'ingresso dell'ospedale, diciamo, al portone principale, il direttore sanitario pure, vero? Cosentino, insieme alla neocommissaria. Comissaria, sì, 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 c'è la dottoressa Carbone, proprio con il cappotto la vedete, e poi c'è dietro col camice medico, ovviamente, Lucio Cosentino, che è il direttore sanitario. Ci sono anche i sindaci, Massimo, c'è qualche primo cittadino, qualche esponente istituzionale, politico? Sì, ci sono, ma sono fuori il cancello, entreranno al seguito del signor Presidente, non appena il Presidente farà accesso, appunto, all'ingresso dell'ospedale. Qui davanti ad aspettare Mattarella, come dicevamo, il commissario Simona Carbone e il direttore sanitario Lucio Cosentino. I sindaci sono ovviamente fuori ad accogliere il Presidente Mattarella ed entreranno insieme a lui. Qui, che dire, è un momento che si... io posso permettermi di dire, Mattarella ha avuto, come sempre, una fortissima sensibilità, lo ripeto, giusto farlo, è stato il primo domenica mattina a esprimere sentimenti di cordoglio, di vicinanza, ha parlato del dramma dei migranti e anche lui ha chiesto interventi più massivi da parte dell'Europa, ma questa poi è una partita che giocherà tutta, diciamo, la parte politica a cui siamo per raccontare questa carezza che Mattarella farà questa mattina ai bimbi ricoverati qui alla San Giovanni di Dio. Perdonami, resta ovviamente in diretta. Noi nel programma, nella bassa frequenza, manteniamo le immagini, perché non appena vediamo un movimento col Presidente della Repubblica avanzare verso l'ingresso, stacchiamo nuovamente sul massimo. Però noi abbiamo anche un altro canale in diretta con il nostro Vincenzo Saporito davanti praticamente ai cancelli del Palamilone, che come sapete, insomma, da tre giorni di fatto è questa bara comune dentro alla quale ci sono 67 uomini, donne e anche purtroppo bambini. Ecco, vedete anche in questo caso un flusso di diretta che di fatto è nei pressi appunto del Palamilone. Ecco, arriva il Presidente. Andiamo da Massimo Carrozzo allora. Ecco il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sta entrando al suo fianco. Intanto il prefetto, tutta la squadra del Quirinale ovviamente. Il Presidente, da quello che è dato sapere, dovrebbe restare in ospedale 15-20 minuti, dopodiché uscirà e si recherà al Palamilone, dove ci sono le 67 bare di questa tragedia. Non ha detto nulla, ovviamente Mattarella è entrato con il viso contratto. In questo istante è entrato dentro il San Giovanni di Dio. Da fuori scorgiamo un applauso e il Presidente sta percorrendo il corridoio. Si recherà al secondo piano, cioè il reparto di mediatria, dove in tutto ci sono sicuramente due bambini di 9-11 anni. Complessivamente al San Giovanni di Dio ci sono 15 ricoverati. Fortunatamente stanno tutti bene e questa è la cosa più importante. Non so se abbiamo anche un collegamento audio con il Palamilone. Nel frattempo Massimo ovviamente rimane davanti all'ingresso dell'ospedale di Crotone. Quindi aspettiamo a questo punto anche l'uscita del Presidente della Repubblica. Immaginiamo che rimarrà qualche minuto, non tantissimi, pochi minuti. Non so se abbiamo anche però Vincenzo Saporito dal Palamilone, oltre alle immagini. Dalla regia mi date conferma se abbiamo solo le immagini. Eccole qua, vedete le immagini. In sostanza in questo momento si inquadra ovviamente il viale che dà verso il Palamilone. Purtroppo è diventato amaro, drammatico, teatro di una sciagura che in questo momento naturalmente non dà soltanto i nudi e crudi numeri dei decessi, dei superstiti, delle nazionalità. Purtroppo queste sono ore nelle quali, a dire il vero, monta anche la polemica. Ci sono insomma delle contraddizioni, non v'è dubbio. C'è un'inchiesta aperta, come sapete anche dalla procura di Crotone, specificamente riguarda l'immigrazione clandestina, essenzialmente il naufragio e il probabile anche omicidio colposo da questo punto di vista. non riguarda le eventuali imperizie o negligenze delle diverse strutture istituzionali, delle forze di mare che sono intervenute o avrebbero dovuto intervenire per portare salvamento appunto ai migranti che dal porto di Smirne in Turchia hanno attraversato l'Egeo, poi l'Oionio, il loro auspicio, la loro speranza, circa 180 a quanto pare era quella di raggiungere la battigia di steccato di Cutro e quindi immaginare anche di vivere una vita altra rispetto a quella che fino a quel momento avevano vissuto. Peraltro abbiamo scoperto anche che tra questi migranti c'erano dei laureati, quindi insomma gente particolarmente preparata che sperava davvero in un futuro diverso per loro, per i loro cari, per le loro famiglie. Dicevo, monta una polemica perché in questo momento insomma tra le dichiarazioni incresciose, lasciatemelo dire, del Ministro dell'Interno Piantedosi è probabilmente qualcosa che non ha funzionato nella cosiddetta catena di comando tra la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza che come sapete interviene anche in mare. Frontex che è questo strumento europeo che consente di lanciare l'allarme e quindi poi dare il via ad eventuali operazioni di salvataggio e tutto questo dentro a un meccanismo nel quale poi ci sono anche alcune regole, alcune disposizioni, nuovi decreti del governo che di fatto limitano anche l'esercizio del salvamento da parte delle organizzazioni non governative. queste imbarcazioni delle ONG evidentemente che però come sapete ora al netto diciamo delle limitazioni, delle nuove limitazioni alle ONG c'è da dire comunque che le ONG non intervengono in queste rotte che sono nuove rotte che stanno diventando comunque le rotte più trafficate della migrazione tra il Medio Oriente e anche il Sud, quindi diciamo il continente nero e il continente africano. Nella rotta cosiddetta turca, quindi Egeo e Ionio, le ONG non intervengono, le ONG di solito sono stanziali intorno allo stretto di Sicilia, quindi davanti alle coste di Libia, di Tunisia, di Egitto essenzialmente, quindi anche da questo punto di vista nella polemica è entrato un problema che forse è solo marginale, ma resta un dato incontrovertibile ed ecco l'auspicio, nostro auspicio, è che la Procura possa far chiarezza anche da questo punto di vista, l'auspicio è che non ci siano degli scarichi a barile e che si arrivi comunque alla verità. Noi ovviamente al momento ci limitiamo soltanto a raccontare la cronaca, purtroppo raccontiamo di 67 vittime, tra questi anche tanti tanti bambini e ovviamente ci piange il cuore al netto del colore della pelle chiaramente e quindi rimaniamo sui numeri da un certo punto di vista, raccontiamo per quel che ci è dato sapere anche dei pezzi di questa inchiesta della Procura e poi dentro ci infiliamo anche queste polemiche che sono polemiche anche certe volte di taglio politico, non dobbiamo scandalizzarci, anche questo fa parte delle riflessioni giorno dopo giorno, perché diciamo questo, per esempio oggi è annunciata anche la presenza del neosegretario del Partito Democratico, Eli Schlein, la quale è stata trancian nelle ultime 24 ore, ha definito vergognose le dichiarazioni di Matteo Piantedosi, ne ha chiesto di fatto le dimissioni e per la prima volta in questi sei mesi di nuova legislatura tutte le opposizioni, quindi 5 Stelle, Partito Democratico, ma anche il terzo polo di Carlo Calenda, hanno chiesto le dimissioni Piantedosi, che effettivamente diciamo nelle ultime 48 ore ha avuto delle uscite insomma, diciamo così, poco felice, ecco utilizziamo per il momento un eufemismo, poi vedremo naturalmente che cosa si svilupperà. Intanto vorrei tornare per un attimo da Massimo Carlozzo, magari ci racconta se ci sono diciamo delle novità, immagino sia difficile anche per te ovviamente lavorare perché insomma non avendo contatto diretto e fisico con questa delegazione guidata dal Presidente Mattarella diventa molto difficile. Hai altro da aggiungere Massimo? Allora altro da aggiungere, oltre a quello che hai detto tu, da qui ti posso dire che ho strappato diciamo un'informazione a un dirigente della Polizia di Stato, mi ha detto che la visita durerà al massimo 15 minuti, c'è una scaletta molto rigida del Presidente, quindi 15 minuti in ospedale e poi per l'appunto il Presidente si porterà al Palamilone. Qui siamo rimasti ovviamente in postazione, anche noi di Esperia TV, molti colleghi si sono già spostati al Palamilone e giustamente restiamo qui perché qui è entrato il Capo dello Stato e da qui uscirà tra qualche minuto il Capo dello Stato. Dicevamo del viso molto contratto del Presidente Mattarella, certo nel suo stile anche la sua serietà, ma in questa vicenda, se posso dirlo, mi è parso e ci è parso molto molto turbato. Sicuramente c'è profondo dolore per il Capo dello Stato, come d'altronde è giusto che sia il profondo dolore del nostro popolo, il popolo italiano. Io metto per prima in ogni cosa nell'ordine il popolo calabrese che ha dimostrato anche in questa occasione un sentimento che diciamo è nel DNA dei calabresi, questo sentimento di bontà, di vicinanza, di fratellanza e di umanità. Delle polemiche politiche, come dicevi tu, direttore dallo studio, ci sarà tempo, ovviamente ci sta nella dialettica politica, le uscite del Ministro Piantedosi, tu le hai definite infelici e così le ha definite gran parte anche della stampa italiana, non solo della parte politica. Io credo Massimo che il turbamento di Mattarella sia conseguenza anche di questa difficoltà, come dire, di queste incomprensioni istituzionali, perché a giudicare anche dalle dichiarazioni del comandante Alò, il comandante della Guardia Costiera, secondo il quale naturalmente l'allarme ha raggiunto la Guardia Costiera alle 4 e mezza, quando praticamente il dramma si era completamente consumato, al fatto che Frontex avesse detto ma guardate che questo caicco sta andando a sei nodi, non sembra che abbia lanciato particolari allarmi, per cui insomma anche da lì c'è la comunicazione di Frontex, di questo velivolo di Frontex, del progetto Frontex, dire guardate è molto probabile che ci siano decine e decine di migranti dentro questa imbarcazione, però non sembra che ci siano particolari difficoltà nel solcare appunto lo Ionio. A tutto questo insomma si aggiungono poi anche le dichiarazioni del Ministro Piantedosi e tutto questo fa un bailam che naturalmente insomma, come dire, rende sempre un po' più articolato, un po' più difficile, un po' più complicato riuscire a capire effettivamente come sono andate le cose. E certo insomma fa piangere il cuore di Mattarella ma un po' di tutti gli italiani, perché poi quando Massimo vediamo, tu sei stato uno dei primi, perché peraltro domenica mattina credo intorno alle 8.30-9 tu eri già sulla battigia di Staccato di Cutro, probabilmente avrai visto anche qualcosa che non dovremmo nemmeno raccontare Massimo. Sono state Salvatore quelle di domenica, scene drammatiche, noi giornalisti diciamo siamo abituati a vedere alcune cose, io diciamo dopo 30 anni di mestiere, quasi 60 anni di età non ti nascondo che domenica mattina ho avuto dei problemi serissimi a vedere diciamo e a documentare quanto quanto stesse accadendo, poi si fanno anche delle scelte, io ero sul posto, ho preferito non riprendere diciamo alcune immagini, ci siamo limitati a quello che secondo me è il ruolo del giornalista, documentare quello che è possibile. È stata una scena drammatica che anche insomma per me è stato un momento difficoltoso, però in quel momento bisognava stare sul posto e far vedere quello che era accaduto, lo dicevi il senso di solidarietà dei calabresi, non si erano mai viste al momento 67 vittime perché poi bisogna ricordare che non è che con la visita di Mattarella si sia fermata diciamo la macchina dei soccorsi, ci risulta che ancora nell'aria di steccato e non solo, anche verso Potricello Sellia da un lato, verso diciamo Capo Izzuto, Capo Colonna, Crutone ci siano ancora uomini e mezzi in campo perché da quello che si è capito su questa imbarcazione il numero preciso dei migranti non è stato diciamo stabilito, però si parlava di un range tra 180 e 200 persone, se facciamo i conti all'appello in realtà mancherebbero almeno una trentina di persone, questo è quello che ti posso aggiungere e io penso che tra un po' ci siamo, qui si sta un po' giustamente seguendo quello che è il cerimoniale, poi ovviamente è ovvio per motivi di sicurezza dentro l'ospedale non entra nessuno, io credo che non ci saranno mai immagini di questa visita, probabilmente nella tarda mattinata ci sarà qualche immagine della visita del Presidente Mattarella all'interno del Palo a Milone, ma di questo ce ne occuperemo dopo, adesso è il momento appunto di raccontare la grande sensibilità del Capo dello Stato a voler essere qui subito, qualche giorno dopo e andare a pregare davanti quelle vittime innocenti di questo ennesimo viaggio della speranza, la politica farà il suo corso alle viragione, Mattarella probabilmente se possono usare un aggettivo credo fosse anche molto infastidito da quello che è successo, non a caso la politica poi ha cercato di correggere il tiro, sono intervenuti tutti, diciamo della maggioranza, per alcuni attenti osservatori Piantedosi è stato bravissimo ad arrivare subito domenica qui a Crotone, ma ha sbagliato il messaggio, quello che emerge al momento è questo, perché poi si può essere di un partito di un colore, di una parte politica, ma ci sono sentimenti come intanto l'umanità, lo abbiamo sentito anche nelle fortissime parole sia del Vescovo di Crotone Monsignor Panzetta che ieri ha fatto visita alle salme, ma l'ho detto anche il Presidente della conferenza episcopale italiana, il Vescovo di Bologna è stato molto duro a condannare questi episodi, a chiedere che si faccia anche che emerga verità e giustizia, sicuramente il Procuratore della Repubblica di Crotone. Ti interrompo perché hai chiamato Monsignor Panzetta, allora ascoltiamolo, mentre tu resti immagino, forse dal punto di vista tecnico è meglio rimanere ancora lì, ovviamente stacchiamo non appena tu inquadri l'uscita del Presidente Mattarella, ma intanto siccome hai richiamato le considerazioni di Monsignor Panzarella, io vorrei fartele risentire, le sentiamo insieme. Aperto i battenti questa mattina al Pala, Milone di Crotone, la camera ardente per le oltre 60 vittime del naufragio, verificatosi domenica mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Sono tante le persone che in queste ore sono venute qui a rendere un omaggio a questi poveretti. Sentiamo cosa dice al nostro Tg il Vescovo di Crotone, Santa Severina, Monsignor Angelo Panzetta. Questo è il momento della pietà, il momento umanissimo nel quale davanti al segno delle bare, davanti al segno della morte, ognuno di noi invoca il Signore, il Dio della vita, che accolga questi nostri fratelli e perché no ci battiamo un po' tutti il petto anche perché è chiaro che c'è una corresponsabilità e una responsabilità sociale in quello che è avvenuto e tutto dovrà essere considerato con attenzione. Però mi piacerebbe che almeno in questo momento ci fosse una tregua dalle polemiche e si sperimentasse dentro di sé quella umanissima pietà per le persone che sono defunte, per le famiglie straziate dal dolore. Nella scrittura si parla di un vento nei salmi, di un vento che squarcia le navi. Il vento gelido dell'egoismo, il vento gelido della paura, il vento gelido della chiusura, il vento gelido di paesi nei quali i diritti non sono riconosciuti, il vento gelido di un sistema economico che produce paesi in cui bisogna scappare, il vento gelido di una corresponsabilità che ci chiama tutti in causa. Quindi questo sia non tanto il momento della polemica, sia invece il momento della pietà e della preghiera. Verrà un tempo in cui, non di pancia, ma con la testa e con il cuore, occorrerà riflettere accuratamente su quello che è avvenuto e su come si debba fare perché queste cose non accadano più. Perché queste cose non accadano più, dice Monsignor Angelo Pansetta, che parla ovviamente di un sistema globale che andrebbe ripensato, ma insomma qui ci perderemmo veramente nella notte dei tempi perché c'è un vero e proprio scontro di civiltà sulla riorganizzazione dell'universo mondo. Andiamo comunque, quindi torniamo un po' al nostro presente di umili e magari anche per certi versi ingenui cronisti. Torniamo da Massimo Carlozzo, non ci sono ancora novità, immagino che il Presidente della Repubblica stia veramente, ecco, stando accanto ai migranti che ancora oggi, evidentemente riportano ferite tali per cui è necessario ancora il ricovero in nosocomio, Massimo. Sì, il Presidente è ancora sopra, il Presidente è ancora sopra in reparto, dovrebbe uscire a momenti perché abbiamo visto uscire, diciamo, il operatore del Quirinale. Sì, penso proprio che ci siamo, che sta uscendo in questo momento tutto lo squacco, ecco il Presidente, il Presidente Mattarella che sta uscendo dal San Giovanni di Pio dopo questa vista durata di circa 20 minuti, grazie Presidente. Il Presidente adesso sta uscendo dal San Giovanni di Pio, accompagnato da alcuni rappresentanti del suo staff, poi dal prefetto di Pio, dal commissario e dal direttore sanitario del San Giovanni di Pio. Qua fuori immagino a momenti c'è anche tanta gente, i comuni che sono venuti a vivere questo momento. Sono certo che manca un applauso che vediamo in questo distante evento di Pio, parlando con il direttore sanitario di Pio di Pio, vediamo dove riusciamo ad arrivare anche noi, ci proviamo a visitare un po' di più. Presidente, non abbandonate, non abbandonate, non abbandonate, non abbandonate, non abbandonate questa vicenda. Il Presidente saluta i cittadini, adesso con la sua scorta si sta per recare al Palamilone. Ecco, in questo momento il Presidente della Repubblica sale sull'auto, farà poche centinaia di metri per poi raggiungere il Palamilone e recarsi quindi ad omaggiare, diciamo probabilmente anche fare una preghiera davanti a queste 67 salme. Intanto Massimo, io credo anche tu dovrai spostarti, immagino raggiungerai adesso sempre da peripatetico, a piedi credo il Palamilone che si trova davvero nei pressi dell'ospedale, sono poche centinaia di metri, è così Massimo? Credo di aver capito che il metodo è questo. Il metodo è questo, arriviamo subito a piedi, sono 100 metri, io mi stacco un attimo dal collegamento in maniera tale da potermi ricollegare poi... Staccati, raggiungi il Palamilone, nel frattempo le immagini restano ancora, come vedete insomma in fondo l'auto del Presidente della Repubblica a poche centinaia di metri, ma dovremmo avere anche l'altro collegamento, ovvero quindi da un altro punto dovremmo... eccolo qua, ed ecco vedete in sostanza questo è il cancello del Palamilone con Sua Eccellenza Monsignor Pazzetta, vediamo il Presidente della provincia Sergio Ferrari, il Sindaco di Cutro, Ceraso e quello di Crotone in fascia tricolore, naturalmente Vincenzo Voce, vedete l'auto in questo momento davanti al cancello del Palamilone si ferma, ovviamente il massimo dell'organizzazione da questo punto di vista, tutto comunque nell'ordinario, la porta probabilmente in questo momento sarà aperta ed ecco che il Presidente della Repubblica appunto scende, vedete anche tanta gente alle spalle del Presidente della Repubblica, ecco la stretta di mano con... ah il Governatore Occhiuto, non avevo intravisto il Roberto Occhiuto, la stretta di mano con Voce, il Sindaco di Cutro, Ceraso, vedete, ecco si intrattiene per qualche secondo a parlare con il Sindaco di Crotone, ecco il Sindaco di Cutro, nuova stretta di mano con Ceraso e da cui a breve immagino insomma che ecco adesso il riconoscimento anche del Presidente della provincia Sergio Ferrari che immagino stia ringraziando per la presenza del Presidente della Repubblica e adesso appunto Sua Eccellenza Monsignor Panzetta, vedete probabile che adesso insieme a... no, il Vescovo resta fuori, entra entra veramente in maniera quasi solitaria insomma il Presidente Mattarella che è scortato, lo dico tra virgolette, è scortato da Sua Eccellenza il Prefetto Maria Carolina Eppolito, c'è naturalmente anche la parte della comunicazione che segue da vicino tutti gli eventi e gli avvenimenti della Presidenza della Repubblica, anzi per la regia insomma controlliamo magari se il canale YouTube della Presidenza della Repubblica stia mandando immagini in diretta perché peraltro ci dicevano appunto gli organizzatori di questa visita del Presidente della Repubblica che tutte le immagini interne sarebbero state curate appunto dal canale della Presidenza della Repubblica, ovviamente poi nel corso della giornata nei nostri spazi dedicati all'informazione recupereremo anche queste immagini ma devo dire li ringrazio molto Vincenzo Saporito, Domenico Stefanizzi, poi qui in regia Martino Cardamone, Antonio Maiolo, Carmine Scerbo per la post produzione messa in onda, ringrazio tutta la squadra di Esperia TV che stamattina insomma sta cercando, ecco stiamo cercando anche con la nostra redazione di raccontarvi questa visita del Presidente della Repubblica, ovviamente in queste immagini vedete anche i cittadini, i crotonesi e vedete anche ovviamente lo spiegamento delle forze dell'ordine che sono conseguenza naturalmente di questi avvenimenti. Colpisce sempre comunque ecco Sergio Mattarella da questo punto di vista ha sempre dimostrato sia nel primo che in questo secondo settemnato particolare sensibilità per alcuni eventi, sia quelli diciamo positivi e propositivi, lo ricordiamo fra l'altro anche presente per la prima volta in 70 anni, in 73 anni nell'Oggione del Teatro di Sanremo per il Festival della Canzone Italiana e poi c'è il Sergio Mattarella invece che si commuove, si commuove davvero italiano davanti a tragedie di questa natura senza guardare naturalmente ripeto la fede religiosa, il colore della pelle, la propria nazionalità. Insomma un grande costituzionalista prima ancora che statista e uomo delle istituzioni Sergio Mattarella che ci ricorda quanto sia fondamentale non soltanto recitare gli articoli della Costituzione ma poi renderli vivi, renderli operativi. Ecco intorno a questo problema epocale che è quello appunto della migrazione di interi popoli dal sud, quindi dall'Africa ma anche dall'est, dal Medio Oriente, pakistani, siriani, iraniani, iracheni, kurdi, insomma tutte queste popolazioni che subiscono da lustri, da decenni, oserei dire in alcuni casi da secoli, guerre, sono vittime appunto di guerre, di sopprusi che si spostano per trovare maggiore felicità nella loro quotidianità. Ecco tutto questo movimento di migrazioni globali è una delle problematiche che nel bene o nel male dovremo affrontare. Ecco perché è bello sentir dire a destra e a sinistra aiutiamoli a casa loro, ma come si aiutano a casa loro se la distribuzione della ricchezza in questo momento è assolutamente sperequata per cui c'è un quarto di popolazione mondiale che mantiene i quattro quinti di tutta la ricchezza. Ecco quando immaginiamo di poterli aiutare a casa loro dovremmo cominciare anche noi a capire che per fare questo dovremmo come dire ridurre le nostre risorse, le nostre ricchezze e diventa ancora più complesso, ancora più complicato da questo punto di vista. Ma questo è un problema che ripeto al netto della caratteristica, della caratterizzazione politica destra, centro e sinistra è un problema che tutti indistintamente, ciascuno secondo le proprie responsabilità dovremo affrontare. Intanto, e ringrazio naturalmente anche la nostra regia, vedete anche immagini che sono state registrate domenica mattina, queste erano immagini arrivate più o meno, insomma immagini registrate intorno a mezzogiorno di domenica scorsa e poi ci sono appunto dei dettagli, dei particolari. Guardate dentro a queste coperte che sono l'unico modo per ripararsi diciamo dal freddo pungente di queste giornate calabresi, ci sono uomini, ci sono donne, insomma ecco c'è un pezzo di questa nostra civiltà, diciamo ecco c'è un pezzo della nostra razza, della razza umana per intenderci. E quindi occorre naturalmente riflettere, evitare come diceva Monsignor Pansetta, magari le polemiche in questo momento, poi ripeto la magistratura, le stesse forze a mare, quindi guarda di finanza, guarda costiera, ministeri eccetera, faranno chiarezza su che cosa ha funzionato, su che cosa non ha funzionato. Noi non escludiamo per esempio, voglio dire anche questo, che davvero sia stata una tragica coincidenza che ha portato appunto all'inabissamento di questa Summer Love, pensate un po' il nome di questo caiccono, Summer Love, l'amore estivo essenzialmente, questo doveva essere il nome di questa imbarcazione che di fatto si è liquefatta, è stata cancellata probabilmente a causa del mare agitato, mare in tempesta indubbiamente, ma probabilmente nel momento in cui ha colpito un fondale roccioso, si è completamente spappolata e di queste presunte 180 persone a bordo, 81 vado diciamo a memoria, sono le persone in salvo, messe in salvo, che si sono anche salvate in maniera probabilmente individuale alcuni di loro e purtroppo però raccontiamo di 67 salme e anche ancora di qualche decina di dispersi perché poi il mare Ionio, come sapete insomma, diventa il cimitero naturale per tanti uomini e tante donne, per tanti migranti e magari a distanza di tempo poi restituisce quel che resta di queste anime perse. Queste sono le immagini invece che abbiamo girato nella giornata di ieri quando è stata formalmente aperta la cosiddetta camera ardente, vedete le bare bianche, dentro a quelle bare sono bambini, in una di esse c'è anche un neonato, una bimba di 14 anni che è stata recuperata ieri e vedete anche ovviamente la preghiera del cattolico, Monsignor Panzetta e anche del musulmano che è l'imam di Cutro, che fin dalle prime ore poi ha raggiunto anche il pala Milone. Per non parlare dello strazio che ieri abbiamo registrato dei familiari, non tutte e 67 le vittime sono state individuate, per alcuni ancora non c'è la possibilità di avere un riconoscimento, ma abbiamo registrato anche lo strazio dei parenti. un giovane uomo è arrivato addirittura dalla Germania, una situazione davvero difficile che stiamo vivendo un po' tutti. Io non so se Massimo Carlozzo ha recuperato anche la sua postazione e anche l'audio, fatemi sapere dalla regia. Eccolo qua. Ah bene, vedo accanto a lui un caro amico, prima ancora che un valentissimo collega. A te la linea Massimo. Sì, buongiorno di nuovo. Siamo dall'esterna del pala Milone. Come diceva il direttore dello studio, questa è una notizia che ha scosso l'opinione pubblica, ma anche chiamato al crotone, è un'intera categoria che è quella della stampa, della carta stampata, ma anche delle radio e delle televisioni. Siccome noi vogliamo che a commentare un'ocenna del genere sia un bravissimo collega, come di Castrese, per anni alla direzione della, allora, lì settimanale, poi trisettimanale, adesso trisettimanale, il crotonese. Mimmo, intanto, che idea del fatto di questa vicenda complessione. Ma intanto di una tragedia che si poteva evitare, come sta accendendo come un momento di atti, man mano emergono le richieste, c'è credo un difetto all'origine della catena di domande. Questo è gravissimo. Riccardo dice un'altra domanda. Non ho qualche difficoltà di ritorno e mi auguro che a casa comunque abbiate sentito la considerazione di Domenico Poli Castrese, già direttore del crotonese, uno dei giornalisti più esperti, più preparati di questo territorio. Massimo, vediamo se recuperiamo il tuo audio per qualche ulteriore, diciamo, informazione che hai recuperato lì dal Palamilone. Ci sei pronto? Allora, io ci sono, ti sento bene. Non ho sentito però la considerazione di Poli Castrese, magari mi puoi sintetizzare. Sì, parlava di questa vicenda, io provo ad avvicinare adesso, scusateci se lo facciamo in diretta, ecco qua, Mimmo Poli Castrese, lo sentite, lo vedete dallo studio? Sì, adesso lo vedo, lo sento e naturalmente lo saluto ringraziandolo per la disponibilità. Stavi parlando delle inchieste, della possibilità, questa è una tragedia che si sarebbe potuto evitare, stavi dicendo, Mimmo. Sì, almeno è l'idea che ci stiamo facendo un po' tutti qui, quelli che siamo sul posto, che stiamo seguendo questo evento drammatico fin da domenica mattina e dagli atti, dicevo che dagli atti che stanno cominciando ad emergere, sia ai livelli centrali, fra Ontex, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, fino alle prime battute dell'inchiesta che si sta sviluppando alla Procura della Repubblica di Crotone, ne emerge una vicenda intricata, dicevo, come l'ha definita lo stesso comandante della Guardia Costiera di Crotone, Vittorio Aloi, sulla quale sarà necessario fare chiarezza, ma già alcuni punti fermi sarebbero emersi. Sostanzialmente qui qualcuno non è intervenuto. Trasparirebbe una sorta di scaricabarile tra chi sarebbe dovuto intervenire, chi avrebbe avuto i mezzi e chi no, anche se, e mi rifaccio di nuovo alle parole del comandante della Guardia Costiera, ci sono delle direttive ministeriali che noi dobbiamo... A noi oggi non ci resta che piangere questo momento. Certo, senti Mimmo, c'è anche un passaggio intorno al quale vorrei tu facessi una riflessione, perché quando viene avvicinato il procuratore di Crotone Capocci, gli si dice, ma allora questa inchiesta su che cosa... Lui dice, no, io non mi sto occupando, diciamo, della catena di comando e quindi di comprendere, di registrare, di focalizzare chi doveva fare cosa. Io mi limito a parlare, appunto, diciamo, di scafisti, di rotta e quindi, diciamo, di introduzione a migranti clandestini, quindi, diciamo, reati che non ineriscono, ecco, le istituzioni italiane. Perché, a tuo giudizio, fa questa precisazione? Ma... Queste affermazioni, ha fatto queste affermazioni dicendo che in effetti lui stava indagando soltanto sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di omicidio colposo plurimo, di disastro colposo, dicendo chiaramente che non c'era nessun tipo di indagine sulle eventuali responsabilità, ma lasciando aperta una piccola porta dicendo se poi nel prosieguo dovessero emergere ulteriori fatti allargheremo il raggio dell'inchiesta. Cosa che poi ha lasciato, ha detto più o meno chiaramente, nelle ore successive, quando invece ha iniziato a parlare di un'inchiesta che avrebbe abbracciato anche le eventuali responsabilità nella catena di comando. diciamo che ha un po' corretto il tiro, insomma, nelle ultime ore. L'impressione è che non abbia voluto fare il passo più lungo della gamba, ma adesso di fronte a dati che stanno emergendo nelle ultime ore, ripeto, le dichiarazioni della Guardia Costiera, prima a livello nazionale, poi a livello locale, della Guardia di Finanza e quant'altro, stanno dicendo che effettivamente qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. Ed ecco perché lui adesso sta un po' facendo marcia indietro, tra virgolette. C'è quindi tutta questa parte che riguarda appunto un pezzo di indagine. Poi ci sono anche le polemiche di taglio politico, Mimmo. Queste considerazioni che io ho definito infelici, ma ripeto, il mio è un eufemismo, di Matteo Piantedosi, per cui i genitori non dovrebbero mettere sulle imbarcazioni i figli, bisogna che si evitino le partenze. Qual è la tua opinione in proposito? Beh, quelle del Ministro dell'Interno sono affermazioni che si commentano da sole. Questi signori non erano in crociera, come pare che abbia fatto intendere. Questi signori scappavano da situazioni incredibili, non solo le guerre, la fame e la carestia, ma l'ultimo anche il terremoto. Molti dei profughi vengono da quell'area, non solo Afghanistan, Pakistan, ma anche Siria. Quindi adesso ribaltare le responsabilità su chi è partito per scappare da queste cose, veramente ripeto, sono affermazioni che si commentano da sole, non stanno né in cielo né in terra. Poi lasciami dire un'altra cosa, anche questa rotta, contrariamente a quanto forse si è detto nelle prime ore, è una rotta che è molto conosciuta dagli investigatori, da chi fa questo mestiere da anni. Soprattutto agli inizi degli anni 2000. Esatto, già dagli inizi degli anni 2000 noi abbiamo notizie anche di grosse inchieste della magistratura. Io mi ricordo all'epoca in cui il PM della DTA che si occupava di queste cose era un certo Luigi De Magistris che fece delle inchieste portando alla luce il traffico di clandestini che partiva da Smirne, dove c'era proprio la base di un'associazione criminale e arrivava dritto dritto sulle coste del crotonese. Stiamo parlando degli anni 2000, come diceva giustamente il collega. Allora queste rotte, questi traffici, l'esistenza di associazioni a delinquere lì basate e che hanno qui dei complici sono cose risapute, quindi anche su un piano più allargato, non al semplice evento di queste ore, è un ragionamento che a livello centrale dovrebbe essere considerato con più attenzione. Mi riferisco alle rotte, sono conosciute, sappiamo che cosa sta accadendo, tralasciarle e concentrarsi probabilmente solo sulle navi delle Ong che salvano le persone in mare sembra quantomeno semplicistico per usare un eufemismo. Grazie, grazie Domenico Poli Castrese, ovviamente leggeremo volentieri quanto scriverà sicuramente domani proprio sul bisettimanale Il Crotonese, domani uscirà appunto il secondo numero di questa settimana e leggeremo volentieri ovviamente anche non soltanto ecco la parte della cronaca ma anche le considerazioni di Domenico Poli Castrese. Massimo io non so che sta succedendo intorno, io immagino ovviamente che il Presidente della Repubblica insieme al Vescovo, ai sindaci insomma credo allo stesso Roberto Chiuto siano lì all'interno del Palamilone ancora e non conosci immagino ulteriori movimenti soprattutto orari e tempistica. No, al momento no, ci siamo dovuti ovviamente per fare questo collegamento ci siamo dovuti spostare un attimo dall'ingresso dove è pieno ovviamente di colleghi, di telecamere, insomma anche di tanta radiofrequenza tra tutte le televisioni. La visita continua come è stato detto, una visita privata, un momento di provare se riesco, se riesco a riuscire a coinvolgere visto che siamo in diretta ti faccio vedere Vincenzo Spagnolo che ha i capelli lunghi ma è un bravissimo giornalista dell'Avvenire, un collega e soprattutto è di crotone, Vincenzo Spagnolo come in diretta abbiamo il nostro direttore Salvatore Audi, come hai raccontato queste vicende? Non mi vedo neanche io. Sì, che cosa vuoi chiestare? Una vicenda complessivamente di questa tragedia? Purtroppo il dispiacere ogni volta di tornare a crotone e dover raccontare cosa ci toccano poi? Perché riguarda persone che in realtà fuggono da situazioni tremende e poi in realtà hanno trovato la morte fuggendo dalla morte perché nei loro paesi o la persecuzione di tipo politico tutti gli afghani che venivano dall'Afghanistan, quelli che sfuggivano ai talebani una buona parte o una situazione comunque di conflitto. I siriani vale la stessa cosa, qualche sommalo c'era. Insomma è veramente triste e doloroso apprendere che chi cerca una vita migliore poi alla fine fa questa fine triste e disgraziata. Salvatore vuoi chiedere qualcosa a Vincenzo? Sì, no, no, la prima curiosità, mancavi da molto Vincenzo da crotone? No, 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 io vengo periodicamente perché ho qui la famiglia, però poi purtroppo come succede ai giornalisti, specie quelli che si occupano di cose di cui mi occupo io, poi finisci per andare sui posti quando succedono eventi non positivi. Ma infatti era proprio questa la riflessione che volevo, perché immaginavo che la tua presenza fisica in questo territorio è spesso conseguenza di tragedie ai noi. Beh, io ho cominciato alla fine degli anni 90 seguendo vicende di criminalità organizzate e per questo poi sono finito ad avvenire, perché resto a tutt'oggi l'unico giornalista calabrese di avvenire. Quindi mi toccava coprire un territorio che voi sapete, molto grande e alla fine i fatti che succedevano non erano sempre positivi. Devo dire che in questi ormai 25 anni ho continuato a portare al giornale anche i fatti positivi, gli esempi di sviluppo, le aziende che funzionano nonostante il contesto territoriale un po' difficile, qualche infrastruttura che migliora. Quindi uno cerca di raccontare anche quello, onestamente. Però poi purtroppo su questi grandi fatti non puoi esimerti dal... come fai? Questo purtroppo è quasi uno specchio dei nostri tempi. Crotone ha avuto tanti emigranti, qualsiasi famiglia, qualcuno in Germania, scusate io non guardo in camera perché ho il sole in faccia. Ha avuto, insomma, in ogni famiglia c'è qualcuno che è andato fuori per cercare una vita migliore, quindi i crotonesi capiscono bene quando qualcuno arriva da lontano per una nuova vita e una nuova speranza. Questa è una cosa, insomma, quello non ce lo possono togliere, non la capacità di empatia che viene da lontano. Devo dire, Vincenzo, che comunque questa straordinaria possenza del sentimento dei crotonesi nell'esprimere solidarietà concretamente nei confronti degli ultimi della Terra, credo che sia stato registrato questa volta dagli organi di informazione nazionale. Beh, è inevitabile perché ovviamente di fronte a una situazione in cui solo oggi, vedi, arriva il Presidente Mattarella, quindi le istituzioni grossomodo, quelle nazionali, sono state lontane da questa Camera Ardente. È venuto il primo giorno Laura Boldrini, poi non è venuto più nessuno, insomma. Sì, ma il Ministro non è venuto qui, non c'era neanche, è andato in prefettura, ha fatto la riunione e se n'è andato, insomma. Quindi di fronte a questo allora poi spicca ancora di più, risalta ancora di più l'aspetto che dicevi tu, cioè la capacità di abbracciare, vivi, ti direi quasi se non fosse retorico, vivi e morti con un solo abbraccio, capito? Quindi di questo siamo capaci, insomma. Anche perché poi nel mal comune ci sappiamo trovare, e anche noi abbiamo vissuto situazioni, no? In Calabria di lutto, di lutto importante, anche Crotone, alluvioni, disastri vari, insomma. Li ricordiamo. Posso chiedere, Salvatore, posso fare una domanda a Vincenzo? Volevo chiederti, Vincenzo, tu ti scrivi su un quotidiano cattolico, com'è a venire, insomma, che impressione ti hanno fatto, che, diciamo, le emozioni ti hanno suscitato, le parole di domenica scorsa del Papa, le parole molto forti anche del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Beh, diciamo che da tempo Papa Francesco e da tempo anche la Conferenza Episcopale dicono che è necessario empatizzare, avere empatia con queste persone, accoglierle, quindi non sono parole nuove per noi. Certo, vanno meditate e andrebbero anche prese e prese nel cuore per poi cambiare un pochino atteggiamento, senza stigmatizzare chi viene da lontano o criminalizzarlo. Grazie Vincenzo, grazie e ovviamente buon lavoro anche a Vincenzo Spagnolo per l'avvenire. Massimo, allora ti tolgo giusto per due minuti, perché c'è la suora, tu hai fatto un'altra intervista interessante che vorrei fare risentire, sempre nella prima giornata davanti ai cancelli sempre del Palamilone, poi torniamo, magari ci racconti qualche altra cosa che stai registrando lì al Palamilone stamattina. Andiamo con questo contributo. Una preghiera, un momento di silenzio, insomma c'è tanto dolore. Questo dramma dell'umanità. è un dolore grande dell'umanità, insomma in tutti i momenti in cui ecco come direttrice la Migrantes ho potuto dire qualche cosa, se si può dire qualche cosa, perché qua non c'è in realtà nulla da dire, c'è tutto da sperimentare e vedere. Ci sono tante persone defunte, ci sono sopravvissuti, ma tanti sono i defunti, tra l'altro... Ecco, torniamo in diretta, era suor Loredana Pisani, ma come vedete il Presidente della Repubblica è appena uscito dal Palamilone, è già entrato in auto e probabilmente raggiungerà a questo punto l'aeroporto dove lo aspetta il velivolo che lo riporterà al Quirinale. A te la linea, Massimo, se ci sei ancora. Sì, ci sono ancora, finisce qua la visita del Presidente Mattarella, solo un appunto, sentite il forte applauso, sentite il forte applauso rivolto alla figura del Capo dello Stato, adesso velocemente si recherà nel quartiere Tuffolo, da lì prenderà la Statale 106 per arrivare al Sant'Anna e tornare in Roma. C'è stato un applauso e da parte di molti cittadini è stata chiesta a gran voce verità e giustizia su questa vicenda, una vicenda che ha tanti lati oscuri ancora, ma che probabilmente grazie alla inchiesta, grazie alla indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Crotone dovranno emergere, magari non subito, ci vorrà qualche tempo, ci vorrà qualche mese, ma dovranno emergere... Massimo, puoi raggiungere il Sindaco Voce o il Presidente Occhiuto, magari facciamo fare una battuta prima di chiudere la diretta, se riesci a raggiungere... Ci proviamo, ci proviamo, vediamo dove siamo, proviamo a passare, qui non ci fanno passare, ci fate... Perché vedevo da un'inquadratura appunto Ceraso e Voce accanto, sempre davanti alla cancellata del Palamilone, loro hanno avuto la possibilità di dialogare, seppure per pochi secondi, col Presidente della Repubblica e sarebbe interessante, ecco, ti vediamo avanzare verso Monsignor Panzetta, andrebbe bene anche Suo Cellenza il Vescovo naturalmente. Vediamo Monsignor Panzetta, un istante, siamo in diretto Monsignor, che diciamo oggi? Sono momenti nei quali vorremmo stare un po' in silenzio, però abbiamo gratitudine per questo gesto di grande attenzione, di grande umanità che il Presidente ha ascoltato tutti con grande attenzione, anche le grida di dolore. Lei cosa ha detto, cosa ha chiesto al Presidente? No, io l'ho ringraziato perché è venuto e ho detto che lo accompagniamo come comunità diocesana con la nostra preghiera, però ho portato a lui anche i saluti della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e quindi ho portato a lui la gratitudine e sono certo che farà tutto il possibile per venire in conto a questa povera gente. Grazie, grazie. Mimmo spostiamoci, proviamo ad avvicinare, abbiamo visto il Sindaco e il Presidente della Provincia, me lo chiami per cortesia, scusate se ci organizziamo in diretta, mi chiami, gentilmente, il Dottor Sergio Ferrari, tra un po' ci raggiunge, il Dottore Ferrari, Presidente della Provincia, lo vedete da studio, lo sentite? Si sente, si vede? Vai Massimo, vai vai! Eccolo qua, Ferrari, allora, sono ormai giorni che si è in campo per questa tragica vicenda? Sì, sono giorni durissimi, giorni difficilissimi, giorni in cui stiamo montando con il popolo diciamo l'accoglienza, il dolore, ma soprattutto la rabbia, tutto ciò che è accaduto. Oggi la visita al Presidente della Repubblica... Cosa ha chiesto lei al Presidente Mattarella? Beh, io al Presidente Mattarella ho semplicemente ringraziato il Presidente Mattarella per la visita sul nostro territorio e lui già il fatto stesso che abbia sentito l'accentità di fare le modalità in cui è avvenuta questa visita, siamo molto riservati, penso che abbia dimostrato uno spessore alto semmai ci fosse bisogno. Spero che sia arrivato il messaggio del Presidente della provincia. Massimo, se non hai altro da aggiungere o altri esponenti istituzionali dei corpi intermedi, insomma, possiamo anche chiudere, che dici? Concludere. Sì, io direi di chiudere così ci guadagniamo qualche altra cosa, diciamo a telecamere non in diretta, ecco. Esatto, noi prepariamo allora a questo punto il telegiornale delle 14 con tutto quello che hai raccolto e continuerai a raccogliere nei prossimi minuti. Grazie a Massimo Carlozzo, Domenico Stefanizzi, Vincenzo Saporito che per Esperia hanno curato appunto questa diretta dall'ospedale di Crotone e anche ovviamente dal Palamilone sulla visita del Presidente della Repubblica ai superstiti, prima in ospedale e subito dopo anche in segno di riconoscenza e in preghiera, immaginiamo, davanti a queste 67 bare in questo momento conservate all'interno del Palamilone. Sono le 11.52 in questo momento ci fermiamo, vi diamo appuntamento alle 14, prima edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora e a più tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.